Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici, è stata una settimana a due facce, quella appena conclusa, vedete la settimana 49 del 2020, una settimana dove i listini europei dopo 4 settimane di rialzo hanno registrato una performance leggermente negativa, mentre a Wall Street dopo la settimana semifestiva della scorsa ottava causa del Thanksgiving sono saliti di oltre l'1% con il Nasdaq oltre più 2,20% andando a registrare nuovi massimi storici. In Europa abbiamo avuto delle piccole prese di beneficio, vi sono state alcune news in chiaro scuro che hanno portato un pochino di timore tra gli investitori e qualcuno ha pensato a questo punto di portare a casa l'ampio rialzo del mese di novembre, ad esempio la notizia che Pfizer non riuscirà a consegnare tutta la quantità di vaccino che aveva ipotizzato in quanto ha difficoltà ad approvvigionarsi di alcune materie prime, vi è il veto che intende mettere la Francia all'accordo che si sta raggiungendo tra la UE e la Gran Bretagna, l'accordo sulla Brexit in quanto per quanto riguarda la pesca non si ritiene soddisfatta, la Francia non si ritiene sufficientemente cautelata dall'accordo che sta per essere siglato e non ultima anche la notizia che l'amministratore delegato di Unicredit non intende ricandidarsi al suo posto ad aprile in quanto si è sentito sfiduciato dal suo consiglio di amministrazione. Sono in atto all'interno di Unicredit sicuramente delle battaglie abbastanza importanti, vi è da un lato l'intenzione del governo italiano di dare in qualche modo di appioppare Monte dei Paschi di Siena, ma pare non solo, mentre Mustier ha sempre detto che non è con l'inglobare altre banche italiane che vuole far crescere la banca, quanto piuttosto semmai espandersi in ambito europeo e questo è quello che riguarda in Europa. Invece gli Stati Uniti, dopo la settimana del ringraziamento, festeggiano la news il rumor più che altro che vede che benché Trump stia continuando a dare ufficialmente battaglia al risultato delle elezioni e a contestarlo ogni PS spinto, pare che stia salutando i dipendenti della Casa Bianca e gli stia dando appuntamento tra 4 anni quando secondo lui sarà nuovamente candidato per i repubblicani per il prossimo mandato. Questo chiaramente darebbe finalmente la tranquillità agli americani che non vi saranno problemi per il passaggio delle consegne tra i due presidenti. In tutto questo non dobbiamo però andare a pensare che il discorso pandemia sia dietro alle spalle e che sia diventato un discorso secondario. Vediamo in Europa come si stanno susseguendo gli annunci dei vari governi sulle regole che le popolazioni dovranno rispettare per il prossimo periodo di festività natalizie, regole che restano stringenti perché i governi cercano di evitare una terza ondata. terza ondata di contagi che invece il dottor Fauci, consigliere medico di Trump, ma che è stato confermato nel ruolo anche dal presidente entrante Biden, ha già annunciato per gli USA a gennaio come praticamente diretta conseguenza delle festività del ringraziamento della settimana scorsa. Quindi secondo il dottor Fauci non sono state adottate cautele sufficienti a evitare una prossima terza ondata. Andiamo allora a vedere i listini, partiamo come sempre dal listino di casa nostra, partiamo da Piazza Affari, Piazza Affari che abbiamo detto essere stato il peggior listino della settimana con un meno 0,77, se però andiamo a guardare il grafico, in 4 settimane eravamo andati dai 18 mila a quasi 22,5, aver disegnato una candela come quella che vedete con il supporto dei 21,8 che ha tenuto ad essere tornata in chiusura praticamente sul livello dei 22,2 con una lunga lower shadow con volumi sopra la media per quanto leggermente inferiore la settimana scorsa, ci sarebbe da sottoscrivere questa candela. Vedremo adesso se sarà sufficiente questa candela per aver fatto rifiatare un attimino il listino di Milano, per aver scaricato leggermente un pochino tutti gli indicatori che erano molto carichi, se sarà necessario prendersi un'altra settimana di respiro, sarà molto importante verificare la tenuta del supporto dei 21,8 o se invece sarà stata sufficiente questa boccada d'aria per far sì che Milano si riporti immediatamente sopra i 22,2 e punti a passare i 22,5 che sono state resistenza nelle due precedenti settimane e a quel punto andare a ripuntare ai 22,8 e ai 23,100. Riuscire a chiudere al di sopra dei 22,5 sarebbe assolutamente molto interessante e a quel punto darebbe sicuramente l'app per quel rally di Natale che poi potrebbe proseguire fin verso fine anno. Staremo a vedere, andiamo rapidamente a vedere cosa è successo sull'altro listino europeo, il DAX, anche esso abbiamo detto una chiusura della settimana in negativo, la situazione è abbastanza similare, qui i volumi sono stati in crescita e sono tornati in media rispetto alla settimana scorsa, abbiamo avuto un'apertura in ribasso rispetto alla chiusura, è salito assolutamente, il DAX ha registrato un nuovo massimo rispetto al massimo della settimana scorsa, ma ha poi ha chiuso al di sotto, ha chiuso al di sotto della rialzista, il supporto statico ha tenuto assolutamente sui 13,200, differenza di Milano, il DAX ha una pronunciata upper shadow, mentre da noi era una pronunciata lower shadow, significa che mentre a Milano c'è stato un ritorno dei compratori, qui abbiamo avuto un ritorno dei venditori, pertanto sul DAX sarà importante verificare la tenuta dei 13,200 punti e solo poi andare a vedere di risuperare la resistenza dinamica che passerà settimana prossima intorno ai 13,360 punti, per vedere di tornare in prima battuta sopra il massimo di questa settimana dei 13,445 e solo a quel punto andare a puntare alla chiusura del gap a 13,500. Sarà pertanto importantissima la tenuta dei 13,2 che se dovessero cedere porterebbe molto probabilmente a un retest di area 13,000 punti sul DAX. Andiamo a vedere invece quello che è successo dall'altra parte dell'oceano, dove gli indici americani hanno avuto un andamento sostanzialmente identico tutti quanti, vediamo il Dow Jones, ha aperto praticamente in linea con la chiusura della settimana precedente, è sceso come tutti gli indici americani sono scesi dopo l'apertura, è interessante notare sul Dow Jones come nonostante vi sia un gap aperto non è stato violato il minimo della candela precedente, minimo della candela precedente che assieme a quello della candela precedente ancora ormai formano un mini supporto, mini supporto che è stato confermato anche questa settimana e che pertanto comincia a essere in questo valore dei 29,230-240 punti, un primissimo livello di supporto che potrà contrastare la discesa prima di andare a chiudere il gap sui 28,495 punti. Chiusura saldamente sopra i 30.200 punti per il Dow Jones che a questo punto avrà come primo ostacolo la rialzista che però passa un migliaio di punti sopra, quindi da parte del Dow Jones ha ampio spazio per muoversi ancora. Volumi sono stati sopra la media e chiaramente superiori rispetto alla settimana precedente in quanto settimana scorsa vi era stata la festività. Andiamo a vedere il Nasdaq che continua a macinare record su record, il Nasdaq ha avuto dopo l'apertura grosso modo in linea un piccolissimo ritracciamento neanche tanto ed è poi ripartito tranquillamente per andare a chiudere sui massimi storici, quindi oltre i 12.500 punti la nostra sensazione che entro la fine dell'anno Nasdaq possa andare al test dei 13.000 punti. Poco da dire, primo supporto sempre la rialzista, settimana prossima passerà intorno agli 11.800 punti, ci sembra abbastanza lontano, a meno di rovesci particolari, non riteniamo che Nasdaq corra il rischio di andarlo a testare. Passiamo infine all'SP500 che se qualche settimana fa ci aveva dato qualche dubbio rispetto alla tenuta della doppia rialzista, questa settimana invece è stato molto preciso, dopo l'apertura in linea con la chiusura della settimana precedente abbiamo visto questo particolare successo su tutti e tre i listini USA, è sceso al test dell'incrocio delle due rialziste, quella di lungo e quella di breve, test è tenuta, ripartenza, si è fermato alla soglia dei 3.700 punti, nulla da dire per SP500, continua a salire dando il polso della situazione del mercato stanottunitense nella sua completezza. Nel ricordarvi il nostro servizio premium, il nostro servizio di segnali è corredato di canale chat per essere in contatto con noi e con gli altri trader, i nostri contatti info chiocciolamactrader.it o direttamente sul nostro sito, vi diamo un buon fine settimana.